Piazza della Libertà, Cesena, un'arena a cielo aperto per un giorno per ospitare l'evento Un Campione per Amico. Iniziativa per promuovere i valori positivi dello sport, della disciplina, della sana alimentazione. Il tutto arricchito dalla presenza di quattro grandi campioni sportivi. Adriano Panatta, Andrea Lucchetta, Iuri Chechi e Ciccio Graziani. Un grande campione per un campione per Amico. Qual è l'obiettivo di questo importante evento? Esattamente questo. Portare tanti bambini a giocare con noi con tanta allegria, con tanta spensieratezza e lasciarli un bel ricordo dello sport. E qui con noi Daniela, una delle tante maestre che quest'oggi con le proprie classi ha aderito a questo grande progetto Un Campione per Amico. Perché? Crediamo molto all'educazione motoria nella nostra scuola. Abbiamo sempre valorizzato questo aspetto della didattica. Crediamo molto che lo sport unisce, ci aiuta a metterci nei panni degli altri, ci aiuta a integrare le classi e siamo contenti di essere qui oggi a questa bellissima festa. Ragazzi siete contenti di essere qui e perché? Sono molto contenta perché ci possiamo divertire con tutti i nostri amici. Io sono molto contenta perché è un'ottima esperienza e per conoscere un po' più lo sport. E' una bella emozione conoscere questi campioni e stare con loro a giocare. Poi da sempre Cesena comunque è vicino allo sport. Cesena è molto vicino allo sport, il Cesena calcio in questo ci aiuta, in questi giorni anche la nazionale di rugby. Oggi questi grandi campioni dello sport che fanno divertire i nostri figli sono un altro bel segno.